Scoprire com'era Torino nei giorni della liberazione attraverso una web app consultabile dai tablet, dal telefonino, dal pc. Il percorso Torino cambia pelle, ce lo racconta Simone Tarò. Inizia in via Astia l'ex caserma La Marmore, il tour della Torino che cambia. Una passeggiata interattiva che si può fare con i gruppi organizzati dal polo del Novecento, che ha ideato il percorso, da soli o perfino dal pc di casa. Un viaggio alla scoperta della città nei giorni della liberazione, che ha per protagonista virtuale Luigi Mainardi, detto Carlo. Era un ragazzo di 16 anni, preso dalla polizia fascista e portato dentro Viasti. Lui pensava di essere torturato, invece quel giorno Fortuna vole che sono i partigiani a liberarlo. Gli dicono bene, noi ti chiediamo solo di scendere giù, perché appunto si scende da Viasti, si va fino in corso a Regina e via verso il polo del Novecento, e ti chiediamo di dire a tutti che la guerra è finita. Ecco, in questa sua discesa racconta Torino com'era. Ad ogni tappa, aprendo l'applicazione dal sito del polo del Novecento, si trova la storia di quel luogo e le fotografie, spesso in un diretto confronto tra ieri e oggi di quei luoghi. In molti casi ci sono anche dei filmati d'epoca che raccontano i bombardamenti e le distruzioni, le ferite inferte dalla guerra alla città. Il percorso lungo l'asse di Corso Regina tocca posti familiari per i torinesi, come l'ospedale Gradenigo Portapalazzo e arriva ai quartieri militari in Corso Valdocco. Facendoti vedere una Torino che è cambiata in questi 71 anni di liberazione. Dentro Polo del Novecento troverai tutto quello che puoi per approfondire da un punto di vista iconografico, scientifico. Quello è l'idea di quel centro che è nato. Grazie a tutti.